buongiorno oggi ci troviamo a bellinzona e quello che vi sto per mostrare è un bellissimo appartamento di 3,5 locali situato al quarto piano una palazzina di 5 piani totali questa è entrata subito ad accoglierci abbiamo dei comodi armadia muro ed accediamo sulla mia destra alla grandissima e spaziosissima cucina con una grandissima finestra la cucina è super accessoriata da frigorifero congelatore a tre cassetti forno vetro ceramica abbiamo la cappa lavandino e tanti pensili come potete vedere in questa cucina lo spazio non manca questa è la visuale della cucina mi trovo in centro a bellinzona siamo vicino a una via principale ma l'appartamento affaccia dall'altra parte quindi sul giardino che adesso tra poco vi faccio vedere di qua abbiamo il soggiorno quindi è tutto aperto però comunque separato dove possiamo mettere un bel divano con una bella televisione e abbiamo un bel terrazzo le tapparelle del soggiorno sono elettriche mentre le altre sono manuali questo è il terrazzo come vi dicevo l'appartamento affaccia sul giardino condominiale qua sotto vedete che abbiamo anche un parco giochi a disposizione dell'appartamento abbiamo anche l'acqua direttamente nel balcone quindi la possibilità di attaccare una canna dell'acqua ed ora accediamo alla zona notte prima camera come potete vedere questa è la lista dalla camera continuiamo e sulla mia destra abbiamo il bagno bagno completo di lavabo specchiera vasca da bagno vc e ci sono già installate direttamente nell'appartamento latatrice e asciugatrice quindi c'è la lavanderia privata direttamente in casa ed accediamo ora alla seconda camera da letto questa con uscita direttamente sul balcone in condivisione con il soggiorno questo appartamento è ideale sicuramente per chi lavora in centro perché siamo 500 metri dal centro quindi si può raggiungere facilmente a piedi è ideale per le famiglie perché c'è una grande zona verde le scuole gli asili sono sempre a 500 metri quindi siamo qui vicino i negozi la cop la migros sono qui vicini ristoranti e farmacia direttamente sotto casa e fermata del bus direttamente sotto casa quindi se ti è piaciuto questo appartamento e vuoi venire a vederlo dal vivo chiamaci ti affitto Grazie a tutti